Musica Rivolgo un saluto cordiale al Presidente della Camera, al Vicepresidente del Senato, a tutti i presenti, benvenuti. Quindi saluto e ringrazio la Ministra del Lavoro e il Presidente della Federazione Nazionale dei Mestri del Lavoro per le considerazioni che hanno svolto. Presidente Giovatti, grazie per questi 70 anni di testimonianza così ampia, così riconosciuta, così importante per il Paese, di chi è stata fornita costantemente dall'opera dei Mestri del Lavoro e del ruolo che svolgo nel nostro Paese, nella nostra società. Rivolgo un benvenuto nuovamente e rinnovo le congratulazioni appena espresse a chi è stato insegnito delle stelle al merito, che sono il coronamento di una vita di lavoro fatta di professionalità, di dedizione, in tessuta di quell'etica che i Mestri del Lavoro intendono continuare a esprimere per rafforzare il senso di comunità e per trasmettere il testimone ai giovani. Desiduro esprimere i sentimenti più intensi di vicinanza e di solidarietà ai familiari e ai lavoratori morti sul lavoro, cui è stata conferita la stella al merito alla memoria. Un'udienza cruciale attende il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini al processo Open Arms. Dopo che la Procura di Palermo ha richiesto una condanna a sei anni di carcere, sarà la volta dell'avvocato del ministro Giulia Bongiorno per la ringa difensiva. Pochi giorni fa i leader europei dei partiti del gruppo Patrioti per l'Europa si sono ritrovati a Pontida per manifestare a sostegno di Salvini. Durante il raduno, in uno dei luoghi simbolo della Lega, è proseguita la raccolta di firme in suo favore. Molti esponenti del carroccio, anche di governo, si preparano adesso alla manifestazione di venerdì a Palermo. Matteo Salvini dice di non essersi pentito delle sue azioni e di averlo fatto per difendere il paese, se condannato potrebbe essere interdetto dalle cariche di governo, ma potrebbe volerci del tempo prima che ciò diventi effettivo, poiché il leader della Lega può decidere di appellarsi alla decisione del giudice. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia l'ambasciatore degli USA in Italia, Jack Marcao, per la prima volta a Palazzo d'Orleans, Nel corso del cordiale incontro, che si è svolto nella sala dedicata a Maria Mattarella, si è discusso di nuove opportunità di collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori del turismo, della cultura e dell'innovazione. Siamo stati particolarmente lieti di accogliere l'ambasciatore Marcao e la Palazzo d'Orleans, dice il presidente della regione siciliana. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di rinsaldare i legami di amicizia tra la Sicilia e gli Stati Uniti. Un rapporto consolidato e profondo basato su valori comuni di libertà, democrazia e rispetto reciproco. Abbiamo discusso delle molteplici opportunità di collaborazione. A tal proposito, ho ricevuto l'invito ad andare in America con una delegazione di imprenditori per aprire nuovi canali commerciali che possano favorire ancora di più il nostro export e dare il via a forme di collaborazione innovative per lo sviluppo della nostra terra. Un invito che raccoglierò nel più breve tempo possibile. La Sicilia, sempre più vicina agli States grazie ai nuovi collegamenti aerei diretti, ha tanto da offrire e siamo pronti a esplorare nuove iniziative che possano portare benefici. In particolare, ai nostri giovani che meritano un futuro ricco di possibilità. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con la collaborazione di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno dato esecuzione nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, ai provvedimenti del giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale con cui sono state disposte, misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 soggetti, a vario titolo indagati per associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all'accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio. Le indagini, condotte da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, hanno riguardato un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione in evasione di IVA e accise, su vasta scale in tutto il territorio della regione Sicilia, di ingenti quantitativi di gasolio agevolato ad uso agricolo. Gli approfondimenti svolti avrebbero evidenziato un collaudato sistema fraudolento promosso e organizzato da un soggetto catanese del 1983. Quest'ultimo, nel ruolo di ideatore dell'associazione criminale, avrebbe operato come amministratore di fatto di una società di Palermo e di una ditta individuale di Catania, legalmente rappresentate da altri sodali, al fine di poter acquistare gasolio a uso agricolo per poi destinarlo ad usi soggetti a maggiore imposta con sensibili guadagni illeciti. Più in dettaglio sarebbe stato ricostruito un sistema fraudolento per mezzo del quale l'impresa palermitana, una volta acquistato il prodotto agevolato, avrebbe provveduto alla sistematica cessione, solo formale, a favore della ditta individuale etnea priva di deposito e struttura organizzativa. In realtà, il prodotto sarebbe stato invece destinato a quattro diversi depositi situati principalmente nell'agrigentino, gestiti da altrettanti membri del sodalizio criminale che avrebbero provveduto alla rivendita in nero come gasolio da autotrazione. Nel corso dell'attività investigativa, a riscontro delle evidenze raccolte, sono stati effettuati tre distinti interventi che hanno portato al sequestro di complessivi 41.000 litri di prodotto energetico a uso agricolo, numero 4 autocisterne, numero 1 semirimorchio e altre attrezzature utilizzate per il trasporto e la commercializzazione illecita del carburante. Nel corso della mattinata odierna oltre 60 finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari personali emanate dai tribunali di Marsala e di Trapani, su richiesta della Procura europea, sede di Palermo, e della Procura della Repubblica di Marsala, nei confronti di noti esponenti politici del Trapanese che hanno rivestito e o rivestono importanti incarichi a livello comunale, regionale e in un caso nazionale. Contestualmente, sono in corso nelle province di Trapani e di Palermo anche molteplici perquisizioni domiciliari e locali tese a ricercare e acquisire ulteriori elementi probatori e riscontri d'indagine. Tra i 24 soggetti nel complesso indagati risultano, a vario titolo, coinvolti nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e riciclaggio anche altri sei esponenti politici che rivestono o hanno rivestito cariche presso i comuni di Marsala, Boseto Palizzolo, Calatafini Segesta, Castellammare del Golfo ed Erice. Un progetto innovativo che sfrutta l'amitezza del clima e la bellezza dei paesaggi autunnali in Sicilia è destinato ai visitatori e ai siciliani che vogliono intraprendere questo viaggio sensoriale, fra esperienze visive e di gusto. Così l'assessore regionale Elvira Amata, che oggi ha presentato al Museo regionale a Cascina di Messina. Etneb, progetto pilota le vie della lava e le contrade dell'Etna barra Nebro di Taste and Travel dell'assessorato regionale al turismo, finanziato dal Ministero del Turismo. Quattro fine settimana a partire dal 25 ottobre e fino al 17 novembre 2024. 250 strutture coinvolte e 30 eventi che interesseranno i due territori siciliani dell'Etna e dei Nebrodi. Il progetto pilota dedicato ai territori dell'Etna e dei Nebrodi, ha detto l'assessore Amata. Sarà solo il primo di altri eventi che seguiranno questo format che coniuga il turismo enodastronomico e territoriale alla stagione autunnale con tutte le sue caratteristiche climatiche e paesaggistiche. Un'occasione concreta per implementare un segmento strategico che già trova espressa previsione all'interno della ricca programmazione dell'assessorato e che sono certa favorirà ulteriori iniziative in altri territori dell'isola, stimolando nel frattempo la destagionalizzazione dell'offerta turistica. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 18 ottobre di Globus Television. Venerdì, tempo instabile. Giornata con cielo molto nuvoloso o anche coperto. Attese precipitazioni possibili su tutto il territorio fino al pomeriggio, poi incessazione. Temperature massime in diminuzione. Non più alte di 23 gradi. Minime stazionarie. Mari. Martirreno poco mosso. Marionio mosso. Stretto di Sicilia molto mosso.